Grazie Presidente. Noi ci siamo. La Lega c'è, convintamente. Non vediamo il senatore Ciampolillo, ma tanto ha tempo per arrivare in aula prima del fischio finale. E già è cambiato il mondo. Rispetto alla compravendita dei senatori di un mese fa, già è cambiato il mondo. E questo è già un suo primo storico merito, aver riportato serietà in quest'Aula. E per questo la ringraziamo. Noi abbiamo fatto una scelta di coraggio, di lealtà, di amore per il Paese. Abbiamo scelto l'Italia. Abbiamo messo il bene dell'Italia prima dell'interesse di partito. Questo per noi significa davvero prima gli italiani, mettere la salute e il lavoro dei nostri genitori e dei nostri figli prima degli interessi, dei litigi o delle beghe di partito. Abbiamo un valore comune, lei ne ha parlato più di una volta durante l'intervento, la libertà. La libertà educativa, la libertà d'impresa, la libertà di cura, la libertà di pensiero. Benedetto Croce parlava di religione della libertà. Oggi è il mercoledì delle cenere, l'inizio della quaresima che porta alla rinascita. E noi vogliamo seguire i principi della libertà e il ritorno alla libertà. Lei giustamente ha parlato tanto di Europa. Uno dei padri fondatori dell'Europa, De Gasperi, nel 1948 diceva che la civiltà occidentale va difesa a ogni costo. Siamo con lei nella difesa dei valori, dei diritti e delle libertà della civiltà occidentale. A prescindere da tutto e da tutti.